7 novembre 1944, l'inizio di una storia, anzi della storia, che diventa, diventa nostra, anzi di tutti, quella di un lombardo diventato sardo, più di tanti altri, Gigi Riva. Non finisce mai questo ricordo? Non finisce mai, vive con noi, mio padre per me, per tutti quanti e per noi è un onore, un piacere essere partecipi. E nella giornata del compleanno dell'uomo, d'altri tempi, continuano le celebrazioni, gli attestati di stime, ricordi, gli abbracci, pieni, tanti, come quelli iniziati martedì scorso all'Unione, continuati la sera per poi ricominciare ieri con un treno a lui dedicato. E ancora, dopo Mandas, il capoluogo con il comune di Cagliari è l'omaggio, l'omaggio arriva con la piantumazione di un albero, simbolico in piazza Hendritch, considerando le radici e legame tra il campione e la città. Città e campione, un'unica cosa. E ancora il film, il dietro le quinte del Nel nostro cielo, un rombo di tuono. Già, il cielo e la terra, Luigi e Riva, Gigi e Riva, i ricordi, gli amici, gli appassionati, ha una storia unica come questa, potranno riviverla e viverla fino a domenica. E pensate solo a cosa potrebbe succedere sabato alla Unipoldomus. Prima, durante e dopo, il match di campionato Cagliari-Milan. È una bellissima giornata, domani sarà un'altra giornata in cui ricorderemo tantissimo mio papà. Per noi è sempre un orgoglio ricevere questi attestati di stima. Insomma, non è e non sarà una settimana come tutte le altre, continuiamo a scriverlo e leggerlo, ma è così, proprio così, come lui del resto.